L'erronea tempistica dei volti, Andrea Andreoni. Gianni era stato fortunato. Il suo cuore si era fermato proprio il giorno in cui stava visitando, insieme ai suoi colleghi, la sede della compagnia fuori Milano dove si effettuavano le ibernazioni. Il gruppo stava salendo al secondo piano, dopo un breve buffet introduttivo al caffè che si trovava al piano terra, utilizzando le scale esterne. Nessuno era abbastanza sveglio da chiedersi perché non avessero preso quelle interne o un ascensore. La discreta giornata di sole e il triste paesaggio cementificato della pianura padana non erano certi motivi sufficienti a giustificare quella scelta. Fatto sta che il primo piano rimase a Flims per tutta la durata della visita. «Aiutatelo!» gridò all'improvviso una delle receptionist che per quell'occasione faceva loro da guida. Stava per aprire la porta di sicurezza che li avrebbe portati al laboratorio di crioconservazione, quando, voltandosi per invitare i visitatori sotto di lei a entrare, si accorse del pericolo. L'uomo che chiudeva la breve fila e che aveva ansato per tutte e quattro le rampe, rosso in volto e sudato per lo sforzo, sbarrò gli occhi e perse l'equilibrio. Cadde spaventosamente all'indietro, rotolando per alcuni scalini e fermandosi contro la ringhiera metallica. Tutto finì, prima ancora che uno qualsiasi dei suoi colleghi capisse a cosa si stesse riferendo la ragazza. Lei invece intuì al volo, dai loro sguardi, che le scale in plexiglass, minigonne e uomini al seguito non andavano troppo d'accordo. Intanto laggiù lo stramazzato stringeva ancora in mano una stupida sigaretta elettronica. Lasciò vagare lo sguardo oltre il vetro che lo isolava dal mondo, incontrando solo una fitta nebbia. Quando questa per un attimo si diradò, lasciando filtrare un pallido sole, sforzò la vista e capì che doveva trattarsi al primo o al secondo piano di una struttura che per motivi che ancora gli sfuggivano sembrava conoscere. Tecnici e dottori assistevano al suo risveglio da dietro un finto specchio, mentre le telecamere registravano tutto a favore della ricerca scientifica e del reparto marketing della compagnia. Il filmato sarebbe poi finito anche nelle mani dei parenti del libernato, e così avrebbero potuto godersi il ritorno alla vita del loro amato, accuratamente montato e impreziosito dal giusto accompagnamento musicale. Non era permesso a nessuno, personale della compagnia a parte, assistere alla fase dello scongelamento o a quella del risveglio, termine che indicava il momento in cui il libernato, dopo aver subito l'operazione necessaria a riportarlo in vita, riapriva gli occhi. Che cuore, polmoni e cervello riprendessero a funzionare era soltanto l'inizio di un ben più lungo processo, che comprendeva anche una lenta e faticosa rielaborazione della memoria. E Giovanni ce l'aveva fatta ad arrivare fino in fondo in una fredda mattina d'ottobre, quasi vent'anni dopo la sua morte artificiale. Adesso toccava agli avvocati della compagnia spiegargli il perché fosse di nuovo vivo. Beh, lei ha detto di riconoscere questa come la sua firma, quindi? Gianni abbassò lo sguardo sulle carte. Si trattava senza ombra di dubbio del contratto di lavoro che aveva firmato con la compagnia. Se lo ricordava bene perché erano passati solo pochi mesi. Quando vide la data in calce al documento e quella proiettata sulla scrivania, fece due conti. Si accorse quindi che in realtà erano passati diciannove anni e sette mesi. Come clausola però mi sembra un po' assurda, disse Gianni mentre faceva scorrere gli occhi su quelle tre riga in corpo sei. Le abbiamo regalato una seconda vita. Se ne rende conto? Disse l'uomo alzando le sopracciglia ben pettinate. Regalato. Se ho capito bene mi verrà detratta metà dello stipendio per i prossimi diciannove anni e sette mesi. In pratica le chiediamo solo di rimborsarci le spese per la stasi criogenica. La nanotecnologia la offriamo noi. Come saprà bene il costo completo dell'intera operazione è bel più alto. Si, lo so quanto paga chi vuol beneficiare dei servizi della compagnia. Il fatto è che io non l'ho chiesto. Vorrebbe dirmi che non è felice di essere qui. Si, però l'ho sempre considerato come una soluzione alla vecchiaia. Non l'avevo programmato. Forse perché quello era il suo ramo. Ci si può ibernare anche in attesa di cure per malattie momentaneamente incurabili o come forma assicurativa in caso di incidenti. Gianni non sembrava convinto. Si grattava nervosamente la nuca mentre per la prima volta dubitava della compagnia che offrissero libernazione ai loro dipendenti per sperimentare le loro tecniche. Sarò chiaro, continuò l'avvocato. Altri due dipendenti, nella sua stessa identica posizione, ci hanno fatto causa in passato e in entrambi i casi abbiamo vinto noi, disse con tono calmo ma perentorio. Gianni si arrese all'idea di essere di nuovo vivo. Nel giro di pochi giorni sarebbe stato libero di lasciare la struttura, avendo superato con successo tutti i test medici. C'era da fare ancora parecchio lavoro sulla memoria ma si era convinto che tornare nel mondo reale l'avrebbe aiutato ad accelerare il processo. Non sarà ora di mettere da parte queste fotografie? Mi chiese Michela rigirandosi tra le mani le cornici mentre le spolverava una ad una. Ritraevano quelli che per lei erano soltanto due sconosciuti. Ho giurato che le avrei lasciate per sempre lì e così farò, le risposi secco. Avevo ereditato l'appartamento da una coppia di anziani. Ero capitato lì per caso molti anni prima e in qualità di rappresentante della compagnia e finì che diventammo amici. Prima morì l'uomo, reduce della guerra cino-europea e negli ultimi anni ridotto a poco più di un vegetale. La moglie lo seguì pochi mesi dopo e sul letto di morte mi aveva ringraziato per la compagnia e l'aiuto materiale offerto, lasciandomi la sua casa come ricompensa. L'avevo spiegato più volte alla mia compagna, ma sembrava comunque non capire il perché di quella mia ostinata fedeltà. Le raccontai anche che avevo lasciato il lavoro alla compagnia proprio dopo aver conosciuto quella coppia e che erano stati proprio loro a convincermi che ciò che stavo facendo, cercare di convincerli cioè di farsi ibernare una volta clinicamente morti per tornare in vita in futuro, non fosse affatto una buona idea. Va bene, allora lasciamole qui se tuonarono alla porta. Vado io, dissi, temendo che si trattasse di qualche venditore della compagnia. Per qualche strano motivo, la mia compagnia amava sprecare tempo parlando con loro, anche se alla fine non concludeva mai niente. Ci mesi un po' a capire a chi assomigliava l'uomo che avevo davanti. Sembrava Gianni, un mio vecchio conoscente, che mi aveva procurato il posto alla compagnia. Non lo vedevo da vent'anni, ma non poteva essere lui, perché sembrava non essere invecchiato d'un giorno, letteralmente. Attacco presto a promuovere i servizi offerti. Sulla sua giacca blu spiccava la solita vecchia spilla aziendale. Le sue pupille scrutavano l'aria intorno a me, per leggere le informazioni che andava sciorinando con finta disinvoltura. Apriva e chiudeva menù e finestre, sbattendo le palpebre mentre le pupille si sforzavano per distinguere icone e testo. Gli innesti oculari facevano sembrare le persone dei tossici, in crisi d'astinenza, ma a loro non sembrava importare. Non so che faccia avessi, mentre fermo sulla porta assistevo a quel deprimente spettacolo. Mi tornarono in mente, però, le facce studiate in gioventù. Rividi quelle ancora animalesche degli Erectus, quelle aliene degli antichi Egizi e quelle fiere dei filosofi greci, poi quelle ascetiche dei Santi medievali, quelle orgogliose degli uomini rinascimentali e quelle compiaciute dei borghesi ottocenteschi, infine quelle disperate dei Lager, quelle false del consumismo e quelle plastiche della chirurgia rigenerativa. Lo pseudo Gianni intanto continuava con la sua tiritera. Michela mi raggiunse alla porta e quando vide di chi si trattava mi si aggrappò alle spalle, sul punto di svenire. Dopo qualche istante anche l'uomo impallidì, gli occhi orafissi e sgranati sulla mia compagna. Aiutai a stendersi sul divano, poi offrì del liquore al rappresentante che si era accasciato su una sedia vicina. Bevì un mezzo bicchiere anch'io, temendo di averne bisogno per ascoltare le loro spiegazioni. Non ne sapevo niente, lo giuro, esordì Michela appena riacquistate le forze. Mi avevano detto subito dell'infarto, ma adesso perché non mi hanno avvisato del risveglio. Eravamo sposati da pochi mesi, disse lui, eludendo la domanda mentre cercava di far combaciare la faccia della donna che aveva davanti con quella della sua memoria. Sette, preciso lei, già. Era proprio Gianni, quello stesso Gianni di 32 anni che avevo completamente perso di vista da giovane. Michela adesso invece ne aveva 53. Nel nostro buco di paese, quello era il primo caso di ibernazione portata a termine. Non era una cosa a cui ci si poteva abituare facilmente, tantomeno vivendo fuori dal mondo. Che avete intenzione di fare qui? chiesi facendo rimbalzare lo sguardo tra i due. Entrambi guardavano nel vuoto con un'espressione catalettica. In teoria siamo ancora sposati, disse lei con un filo di voce. La guardai incredulo. È vero, continuò, mi hanno spiegato che non c'è ancora una legislazione al riguardo, perché i casi sono ancora pochi e non la lasciai finire. Dovreste parlarne con un avvocato, subito. Ma la compagnia, inizia Gianni. Vaffanculo, te e la compagnia, sbottai alzandomi i piedi. Prendetevi un avvocato, due o quanti cazzo ve ne pare, e andate da quella compagnia di merda. Non tornate se non avete una risposta precisa e definitiva. Mentre parlavo li avevo spinti fuori dell'appartamento, le mie mani piantate sulle loro schiene. Tornato in cucina mi riempì un altro bicchiere. Lo bevi in piedi, di fronte a una foto ingiallita dal tempo della vecchia coppia. Il mio volto si rifletteva sul vetro. Sembravano felici. non sapevo altro.